Era una storiella, quindi abbi pazienza Pablo, thank you Pablo for the tradition, per la pazienza. Allora, questa è una storia, una storiella. Immaginate queste sette miliardi di persone, tutte quante la notte di San Lorenzo, che è la notte delle stelle cadenti, no? Anche in Polonia si esprimono i desideri. Allora, sette miliardi di persone e sette miliardi di stelle. Ogni persona esprime un desiderio e spegne una stella. Ma alla fine quindi rimane solo una persona sveglia e una stella in cielo, perché tutte le altre sono spente. Nel momento però, nel momento della scarsità, esce fuori la generosità dell'uomo. E quell'uomo deciderà di non esprimere il suo desiderio, perché gli altri possono avere sempre la speranza di poterlo esprimere. E quell'uomo deciderà di fare un desiderio, di mantenere una stella inizia, per dare la speranza alle altre 7 miliardi di persone di fare un desiderio. Per dare la speranza di avere un secondo desiderio. Oh, cazzo, sbagliato. Oh, cazzo, sbagliato.